Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Web, arriva in studio ubriaco e si rotola a terra. I fan sono senza parole, non credono ai loro occhi Tutti i dettagli al riguardo.web. Trasmissione tra le più famose d'Italia, uomini e donne è il dating show più seguito in tv Grazie alla professionalità dell'amatissima padrona di Casa Maria De Filippi e della sua bravissima redazione Proprio in questi momenti, i fan accamiti del programma non credono ai loro occhi per ciò che si è verificato all'interno dello studio televisivo di Mediaset Che cosa sta succedendo? Tutti i dettagli al riguardo.web, in studio succede la qualunque Programma amatissimo da grandi e piccini, uomini e donne non finisce mai di lasciare a bocca aperta i tantissimi fan accaniti Infatti, molto frequentemente, la trasmissione di Queen Mary De Filippi è chiacchierato da tutti In queste ore, i telespettatori affezionati sono rimasti senza parole a seguito di aver preso visione della nuova puntata del dating show, andato in onda il 23 marzo del 2022 Durante questo appuntamento pomeridiano, in studio è successa davvero la qualunque Ma di che cosa si tratta nello specifico? Maria De Filippi ha uomini e donne Uomini e donne, arriva in studio ubriaco e si rotola a terra.È proprio di queste ore una video virale che ha lasciato esterrefatti tanto la redazione eccellente della De Filippi Quanto gli affezionatissimi telespettatori di web che conoscono alla perfezione tutto sul dating show di Mediaset Che cosa è successo concretamente? Un corteggiatore si è presentato in puntata ubriaco? Cerchiamo di scoprire insieme cosa sta facendo rimanere senza parole tutto il popolo del web Web studio.Da ciò che si apprende, il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset non sta credendo ai propri occhi a seguito della puntata di Uomini e Donni andata in onda il 23 marzo 2022 Manuel vorrebbe conoscere la dama Stefane del partero Weir Per uscire nella sua impresa, però, chiede aiuto di una persona in particolare Di chi? Di Luciano, chiedendo a Maria di nominare il signore più grande come suo tutor poiché dotato di un grande talento da ballerino e, soprattutto, da seduttore Inginocchiato sia il suo beniamino, Manuel si è rotolato a terra, lasciando senza parole tutto lo studio e, in primis, Stefania Quest'ultima, infastidita, si è alzata, sottolineando di non voler conoscere affatto il suo pretendente Non pochi utenti dei social media hanno commentato che, a parer loro, Manuel sia stato sotto effetto di alcol Vediamo insieme il video diventato virale.Altre persone, invece, come potrebbe essere più consono, hanno detto la loro, esprimendo che l'uomo, forse, aveva solamente voglia di divertirsi in uno show importantissimo della televisione Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video